Hola todos, hola hola hola, hola hola hola, vediamo un po' cosa succede in questa live notturna dove già abbiamo dovuto far ripartire la live perché si era bloccato tutto, quindi siamo senza notificazioni attive siamo senza notificazioni attive, e senza lag, e senza lag, o lag, come sempre Victorin, hola hola hola, hola, che tal? noi stiamo gestionando, sì, dicendo, perdon, ho inventato un verbo, non si può, no? credo che no, che bene Victorin, ti ha arrivato due volte o una? a noi, noi abbiamo saluto la live antes, quindi ti dico, ha passato una cosa a Lara, si ha blocchiato tutto, quindi, quindi, vabbiamo a fare una mica, ora sì, ma Victorin, in serio, hace mesi che la persona la faccia, eh? cuidado a dire idea primitiva perché, mesi e mesi che le persone chiedono a fare questa Splatfest family, eh? ah, vale, io so cosa dici hola, io Anna hola, io Anna ah, mira che viene perfetto falta solo la notificazione da dal Papa ah, Victorina ha tenuto più suerte che noi a me ho Youtube buffo questo video non si incontra disponibile ah, claro che tal, ci cose che è che non che mi quanti a me può essere non non città quello che Parece che nadie chiedeva con la colonna oh tenevamo mesi da 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 assettarci si ha disuscritto una persona e nel tempo che abbiamo abierto la live si ha disuscritto te lo curo caramaco ricordati che tutti siamo nigan ricordati sempre questa quando mi fai queste domande io ho sempre con sua pretesa abbrami in chat te hablo in chat con il microfono io ah no il caffè io e io che bella partita però mi sto iniziando a capire il penerello il penerello cosa che non significa che mi piaccia eh. Doc tu hai gli orecchini che sbloccono con l'amiibo della ragazza. L'amiibo un uovo della ragazza no, non ce l'ho ragion per cui non posso avere i tuoi orecchini Calamaco se vuoi farmi di regalo il mio compleanno domani mattina alle settimane un quarta. Inviameli o mi dai il tuo profilo Calamaco, tanto tu sei Nabbo e io gioco col tuo profilo così almeno ce l'ho anch'io. Se vuoi. Se vuoi. Se vuoi Calamaco. Ok però il microfono si noigo. Ok. Questa è la mierda di Youtube eh. Ti lascia scrivere un messaggio. E poi se blocca. Se blocca. Quindi io come posso parlare con la nostra amica? Premi questo por fa. Accetta la mesità porfist. 2. Neondemon. 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 Que non si è aggregato ora. Hace 5 minuti. Ok. Ok. Chi è l'altro? Dup se bec. Ioana. Amichevole no? Sempre? Ah sì sì sì. L'ho visto. L'ho visto e diventa pelato. Ciao. 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 Che sono le riquini? O che? Per lo pendiente. Lo che ho visto. Ah sì. L'ho visto a ti vuoi. Non te lo guardas. Però come sono i pendiente? Ah sì sì sì. Mi ricordo. Però non sono questi che facendo come triangulare? Non mi ricordo già. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno. 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 Sì. Che ci sono qui nel nostro paese? A parte di io, no? Vicente. Victorina, Ioana. 3 persone. Poi hai Marco, quarta persona. E qui nel chat sono 10 persone. quindi c'è 5 persone che non sappiamo chi sono 3 bufus desconociti vai Jessica, pinta tutto no no no, carrega, carrega tienila super, bravissima come l'ho fatto? ma non metti trasporto, chissà tutto può pinta come lo facendo? da di di da 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 adalante chicos tutto è live maestri oh vorrei subire poi guarda guarda wow che guai questo non ho mai visto comparece con un tatuaggio in la pared che guai che 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 da la sensazione di essere supremo assolutamente no credo perché tu ora stai giocando in una maniera dove 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 sta pintando bene sta facendo cose bene che qui che 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 Ma Calamaco te ne vai a dormire già Ma dai E' vero sono le 11 e un quarto Ho detto tardissimo Buonanotte Arriveranno tempi migliori Calamaco Ti vogliamo bene ricordatelo Anche se sei piccolo o brutto E grazie per averci difeso oggi Facciamo concerto? Certo? Si Las bombas básicas Bombas Illuminati Aunque non aparezcan Sono molto buonas Si le dici Revientan Las redondas o las triangulas Ah, vale Io entiendo por qué A me gusta Oh Dio Que quería hacer Chicos Un segundo Un segundo Ragazzi Que ho visto che ci sono italiani Voglio salutare tutti Allora Ciao Michele Bello Buonanotte Doc Ciao Doc Ciao Fanta Michele Devi scaricare Disc Jam Michele E' fantastico Ti dico solo quello La bomba Ciao Ne Calamaco Vabbè Doc Io devo andare a dormire Notte Handicap Match Ciao Michele Buonanotte Siamo coscienti Che oggi siamo In ritardo Per voi Siamo coscienti E riposate bene tutti Ci vediamo un altro giorno Grande Miki Sì Mola Simpatico Gabri Sei simpatico Veramente come un herpes Mica duca Un herpes Guarda Se eravamo in Peggy Che Peggy siamo? 16? Posso dirlo? Posso dirlo? Che ore sono? Dimmi l'ora Proficio 11 quarto Posso dirlo? Gabriele Sei simpatico Come un herpes genitale A che storia Non sono più Io responsabile Di le mie parole Ma bensì Il Peggy Com'è no? Buah Vamo scherzare Jetpack salvaje Ah è tornato il suo posto Di partenza No? Di partenza Vi ricordate? Qualcuno si ricorda Dal Ah Come era? Come si chiamava? In Aspetta 1-1 E' la special Che era Il calamare enorme Wow Il Kraken Algo Il Il Kraken Il Kraken Alguien si ricorda Del Kraken Nel Sprat 1-1 Che bestia era eso? Normal che non lo hayan volto a coger No? Alguien lo usava Come arma special? Bravo Fanta Wow Wow Sark Sark Lady B Lady B Lady B Let it be Na 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 Lady B Na 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 Lady B Lady B One, two, three Lady B No Salvataggio Oh Perfetto, perfetto Fanta ti aspettiamo Sì, tranquillo Non è grave per niente Anche se è stata bella Anche è stata una bellissima live oggi Oggi si è perso una bella live Abbiamo scelto il team Però come sapevamo che non c'era molta gente Abbiamo registrato Fatti il video? Sì, la scena Giusto quando lo sceglievamo E lì c'è anche la nostra spiegazione di perché Abbiamo scelto Ah ragazzi io vi consiglio di andare a vedere il video Che abbiamo fatto oggi Perché c'è una scena hard all'interno di quel video Vi conviene guardarlo e capire dove è la scena hard Perché c'è una scena veramente, veramente, veramente porno E anche il video Nel video dove scegliamo lo Splatfest Ah È vero Ho fatto una scena porchissima Degna dei migliori registi Assolutamente che ha piaciuto Fanta e Gabri Però, meno male No, dillo, dillo Dillo in tutte le lingue Devi dirlo Dei atrozi hanno vandalizzato il negozio del mio padre Eh? Ma che dici? Chi? Ma che merda Cosa è successo? Dice che dei stronzi hanno vandalizzato il negozio del suo padre E ha dovuto aiutare a pulire Ma chi è? Da Fanta Fanta? Eh, questa cosa è un problema Speriamo solo che ci sia un qualcosa che copre Già ben capito, non parliamo più Bella Eh, chicos Por favor Tenis che ir a ver Todos Todos bien Però tenis che mirarlo Questo video Perché mi han dicho Che all'interior di questo video Hai Un Un Una scena De Ard Porno Porno splatunero Dicen Che già Grazie Il caffè Il caffè è quasi a temperatura giusta per verlo Sabete, chicos, che il caffè è il nostro gran amico Il caffè è il nostro gran amico Alla, questo è trasparente, non l'aveva mai fijato Sarc Sarc Sghere 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 Oh, oh, oh Aiuto, aiuto Via, via, via Via, nooo Chicos Toda mirar Por favor Il video E Chiedo che alguien Mi pone Il minuto Donde hai E le scena Che vi ho dicho È una scena Muy rara Splatoon Una scena Che debería ser Censurada Si Para los platoneros Más jóvenes Pero indefensa Non me lo creo Non me lo creo Non me lo creo Sei dove in gar Vale, Sarc Esghere 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 Ho terminato la pintura Oh, Gabriele Gabriele Vai a vedere il video bene Per favore Perché c'è una scena dove Cioè È troppo epica Va Sarc Sarc Sakhina Sakhina Hai sonno già Così ci saluti È arrivata dicendo Che ha sonno Sì Buona Che sonno Buona Poverita Ma sei Sei stata fortunata Te perché hai potuto Starle in a live Le 5 Ma c'era? Sakhina Sì un po' Un attimo stato Ah è vero 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 Che ha detto Sono Basta guardare Basta guardare L'idioma Si chiama Si chiama Tattica No Sì sì Belle entrate C'è anche Sveli Sveli Buonanotte Anche la Svelina Svelina e Sakhina Sì Le veline Uniche due ragazze italiane Ti può dire Siete le uniche ragazze italiane Che parlano Sveli Sveli manca qua Si sente che non vieni più Svelina Non conosci Sebastian Trebastian Sebastian FANTOM IS BAG Eccolo FANTOM IS BAG Ecc FANTOM IS BAG EGG B B EGG Are you egg? No FANTOM PANTOM PANT Are B EGG B EGG Non BEC No BEC BECS Esgere 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 I BEC I B EGG Perché Le uova Fanno male Se le congelo E te le tiro Visto Ragazzi Rutto libero Team gallina Team uovo Ma sa chi Ma sa chi Sei uno youtuber Io Ascolta Io sono uno youtuber E' una tipica ragazza italiana No no è bruttissima quella canzone Svelina Fa veramente schifo Da una descrizione Da una descrizione delle ragazze in una maniera dove Non ci siamo Sveli Io non credo che tu sia così No Io mi nego a pensare che tu sei così Dai Dominic Fante stick Tranquillo che No 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 La svelina dice no 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 Ce lo conferma quindi Brava Per fortuna Io non me la immagino così No Cresciuta Troppo in fretta Fumo Inizialata la sigaretta Ma baffanculo va Per fortuna son poche Cioè son sempre di più Però son sempre poche Rispetto Wow Fanta Fantastic Che sfantafetto Fanta for frog In breve È come Para Hermanos Sapevi Fanta Che in tedesco C'era un gruppo musicale Dei 90 Che si chiamava Fanta 4 Osea Fantafia Fantafia Polizia La prima cosa che ho visto Quando ho pensato il tuo nome Pensavo Ah è un tedesco Sì Poi no Ha scritto in italiano Ostra Ostra No Devi morire con me Cobain Someone stole my name Vuoi come mi immaginate Io non immagino nessuno E faccio prima Molto semplice Io ti immagino come una ragazza Inklein E basta Così Senza switch Quasi Quasi Con switch Ma ancora senza Che switch Forresti prendere Se vedi di colore Quello è bianco e nero Voglio io Esplodi Fottuto Cannino Di merda Ma cosa dici E che gioco Prenderesti per prima Dopo di spiature Non me lo creo E' lo stesso minuto E' lo stesso minuto Ora che ti sale Un po' che come te lo marca il masco Tranquilla tranquilla Doctur Getting Too old For Splatoon No 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 Joshua You are too young For Splatoon I'm not too old You are too young Allora Gustavo 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 Te repito Qui vicio Nadie ne tiene Ni tu Ni tu Ni yo Ni nadie Entonces Pasa una vez E può essere che non passa Nunca más O come può essere che Passa cada vez Però decido io Porfi E dopo questa Ultima vez Que te lo dice Cada vez che lo pidas Te vamos a ignorar Si Con mucho cariño Para tu bien Saki 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 E' una ragazza Intelligente No podriais Aver cenato Antes Un poco Un poco Más pronto Vittorin Non podriais Aver nascido Un par D'annios Antes Solo Un par D'annios Más pronto E' una ragazza Ritornerà E' una ragazza E' una ragazza E' una ragazza E' una ragazza Sì 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 No Oh Sicura Buon E' una ragazza E' una ragazza Sì Svegli E' una ragazza In quanto ai giochi Bo Dipende Qualche cosa ti piace Ovviamente ci sono cose Che sono bellissime Come Zelda Buah Non me lo creo Io penso che Se ti prendi Splatoon E poi ti prendi Zelda Magari smetti a giocare Splatoon Per un po' Scrivi Scrivi per favore a Gustavo Come si scrive Handicap Match E spiegali che cos'è Perché Già ieri Non sono riuscito A spiegarlo Eh no Abbiamo perdito In una maniera Muy fatale Tio Ah No E' boh Sì Boh I quando Non sono Por favore Por favore Por favore Sì Sì Vaffanculo Vaffanculo Ce l'ho piena Ce l'ho piena Andrew Con il controller Lotto Andrew Conosciamo Andrew Non lo sa Ciao Andrew Certo che poi Vuoi entrare Nella partita Prima devi aggiungermi Credo sai Andrew Ma che non viene a casa mia Ti do il controller E tu giochi tranquillo Con noi Qui Dica Luca Ah quello di Splatoon E' anche bello I colori Sì noi abbiamo Il pro controller nero Quello di Splatoon Poi abbiamo I I Joycon Di Splatoon I Joycon Neon E quelli Grigi Gabriele Ma se hai giocato solo Una volta A Zelda Ma la accettate subito No Andre Andre Normalmente Se tu me la mandi Io faccio passare 63 giorni lavorativi Dopo 63 giorni lavorativi Ti arriverà a casa Un cedolino Dove tu dovrai fare Un versamento All'anonimo alcolisti Barcellona E ti accetto Chiaro chiaro zio Manda e ti accetto subito Che strano Chi fa aspettare Per ci dare la più città Gustavo Mira Ti dico Il nombre Igo Esiste Che ha se Non lo sai Credo dal 2000 I4 Andre Adesso ha detto Allora metto Come nome Sebastian Dai dai Ok Ci fai un favore Anche ci siamo abituati Che è Andre 88 Sebastian Però Adesso che lo sappiamo Puoi stare tranquillo Mamma ma chi ha detto No Andre 88 Che è Sebastian Ah Ah è sempre lui Ti ricordi Sì No 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 Adesso è arrivato Un Andre U E a lui Ha detto adesso Allora metto Adesso L'altro Perché ci sono due Ho capito Capito Lui italiano No vabbè Ma io ho il bonifico Voglio sapere se lo fai ragazzo Ah scusa Stavate parlando Un'altra volta Phantom Fanta Dai Tanto Comprate i giochi Poi quando noi facciamo Le live di quel gioco Almeno ce l'avete Potete giocare con noi Pensatene così Oh ma mi aggiunge però Dai amico italiano Ti faccio lo sconto Dai Solo per te Andrew Stasera Il prezzo Il prezzo sarà Ribassato Del 50% Madre mia Svegli sangue al naso Ma che cose ti succedono Claro 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 Gustavo Gus La conosciamo Mui bene Io la conosco Bastante bene E mi gusta Victorina Victorina ora va a ser Un compleanno De switch Cada dia Ostra 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 Non me lo creo Avevo Mario Kart Sto leggendo l'inversa Sai da sotto Aspetta Sei visto uno secondo Sono Mario Kart Ma poi Ma questo è questo Sì Com'è Li agendo a moto I giochi Poi alla fine Ma stanno sempre Giocando a Spartan Quello che sembra Allora Io voglio capire Perché il ragazzo Quando l'ho detto Che doveva Pagare È andato via Andrew No Accetta la vincita Andrew Ma stai in mezzo Non me ne frega un cazzo Sennò Andrew si offende E io non voglio prendere Subito Voglio perdere Uno subscribes Perché io Sennò poi non do È un youtuber Io sono uno youtuber Eh raga No dai Certo Certo Accettato Velocissimo Andre Scusa se abbiamo deluso Le tue aspettative So che ci sono youtuberi Molto più veloci di noi Ma noi l'abbiamo fatto Col cuore Col cuore del nostro pappagallo Non col nostro Oh Victorin Lo abbiamo mangiata Vale Andre Qui siamo una community Non sono Cioè tu se parli con me Parli con tutti Normalmente Siamo un clan Di persone Che giochiamo A Splatoon 2 Partecipiamo Tornei Clan War Facciamo minchiate così E niente Boh Spero che ti trovi bene con noi Detto questo Detto tutto Vieni E ti rompiamo le gambe Dai Forza Vieni Vieni Ciao Victorin Buonas noces E felicidades Per tu un anno E un dia Di tu switch Ciao Victorin A sta pronto No vi sei Donde ti vas Donde ti vas Donde ti vas Dì Sebastian Adesso ti riconosciamo Dove essere entrato adesso Vediamo se è vero Vediamo se è un buffo Fino adesso sei un buffo Perché non ci sei Vediamo se continua Vediamo se è un buffo Se è un buffo Confermato Confermato Non ti preoccupare Dopo rientriamo Solo per Andrea Eschere Ah vi senti Mentre vas È breve no? Per te Disconnectasi E tu attendi Tu attendi Questo sarà L'attimo di pazienza Che ti fa aspettare Splatoon Eschere Guarda qua Il termine buffo Va tantissimo Noi normalmente Andiamo a insultare Gli altri youtuber Dicendogli anche buffo Però se dico buffo Se dico buffo Chicos Alguien Alguien sabe Che è un buffo Chi è un buffo Alguien che Alguien Antes solo non si ha salutato E poi Non ha detto Niente Perché tu Non le hai salutato Non me lo creo Caputana 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 Grazie per le stelline Comunque Le stelline ninja Sono quelle Anche se stiamo entrando In peghi In peghi British Io sono una bitch Non so se avete visto Il mio profilo Il mio me Ma sono veramente Una british bitch Porca troiaccia Di una troiaccia Avevi ancora 21 minuti E' stato mio cugino Mio cugino Mio cugino Stacchi buffo Stacchina Non me lo immaginavo Claro Ma sono Mira che Non so se avete visto Ragazzi italiani Ma nella copertina Cosa stai facendo Tu come stai giocando Vai a mezzare Invece di vincere Io? Sì Andavi giusto lì Dove c'era Ma io sto parlando Io sto parlando adesso Adesso è il Glover show Cioè io sto parlando E il mio personaggio Sta giocando da solo Non so io che sto giocando Può essere il tutto Può essere Capito E quindi Mi stavo dicendo ragazzi Aspetta che adesso Dici questo Che c'è scritto Bufu Bufu Il mio mio E' visto E' visto E' ho mischiato La creatività Dell'essenza british Più il Il brillio Il lucichio Di quello che può essere Un 24 carati Peccato che non si può vedere Ma ho anche i cartier Che è il documento Oh cazzo cazzo Phantom Mi piace il documento Ti accetto anche le maiuscole Hello Jeffrey Hello How are you? Jeffrey 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 Triplo tette sopra ogni cosa Ah no è triplo sette sopra ogni cosa Oddio ma lì c'è un pallone che salta Non l'avevo mai visti Ma l'hai visto neanch'io Che be' Ah no no ma non è il pallone C'è uno dentro Non vedi che c'è uno dentro Aiutalo Aiutiamolo Scusate raga Vieni con me Vise Vise Vente conmigo Vente conmigo Vise Chicos Abbiamo un Non siete degli animali Siete delle bestie L'avete lasciato morire Abbiamo vinto? Sono anche primo nel frattempo Hai capito? Eh sì Era un handicap match Peter Bufu Stai zitto Bufu Cosa Cosa devi dire Ancora Sarkes Minovio Tenemosi un pochito Eccolo E lui? Sì Bufu 28 Bufu C'è anche Bufi Bufi C'è di tutto qua Ah Sakhina Sakhina Se vai a vedere All'interno del Toh Gioca tu Con il penerello All'interno Aspetta Aspetta Chi c'è contro? No c'è contro quello nuovo Voglio giocare io Voglio giocare lì Dobbiamo dare il benvenuto Come on guys Everybody Everybody dance Na 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 Give me love E sono andato subito A prendere cazzo Da quello nuovo Dallo tutto Perché l'ultima Per Fanta Anche Certo Fanta Te lo do tutto Tranquillo Fratello Vai Lag Bennett game Inizia già eh Bennett C'è scassato Cazzo Tu e il lag Veramente Basta Siamo in Pg 18 Lag Ragazzi io vi consiglio vivamente Ve lo dico in italiano eh Vediamo Così almeno faccio ridere solo quelli italiani Allora Quella persona che ha scritto Le tre lettere sopra No L'ultima persona che ha scritto Quello lì che contiene L'attività fisica Per farvi intendere Andate a vedere il loro Un suo video Ok C'è un video dove potreste morire Dallo schifo Ed è suo E quella è la cosa brutta Ragazzi Mi prego Andate a vederla Andate a vederlo Se c'è ancora C'è un tipo che ha detto Io Mi subiscrivo dal tuo canale Perché fai veramente schifo Ok L'ho scritto in inglese È quello sopra di te Quello che ha scritto sopra di te Gabri Ma mi sa che non c'è Quello del L'ha tolto L'ha tolto Il schifo schifo l'ha tolto Comunque Quell'altro anche Non è male No vabbè Comunque Dal naso riesce Dal naso riesce una cosa L'esce una cosa enorme Del colore Di questo colore qui Questo colore qui Aspetta tu testa di cazzo Stavo facendo vedere il colore Diciamo che si è infocato Di una posizione malissima Per Vai 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 a vedere Non c'è adesso già Ma è la bellissima Sei sicuro che non c'è Lo guarda meglio Per favore No perché ha scritto Che si è rotto il cellulare Ah si è rotto il cellulare Mannaggia la puttana Perché se ne è bloccato Non so Però io andrò a cercare Nelle viscele di youtube E lo tirerò fuori Anzi Io penso Tieni qui Perché il doc Il doc Quando Quando ci si mette Può essere veramente Cattivo Cattivo come Allora Fammi andare in una chat Con T-Bone A vedere Perché forse T-Bone Gli ho mandato Ah ok Però aspetta Lamborghini Pem pem Mi chiede Sei il pem Pem pere pem Pem pere pem Pem pere pem Dolce nera Dolce nera Minchia ragazzi Siete tutti Siete tutti Tanto su 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 discord Sì Credo di sì Lo metto lì Che siamo insicuro Forse lo trovo Anche la serpe Eccolo 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 Fermi Fermi Vediamo se c'è ancora Eccola serpe Ma tanto Gli ho la foto si vede Hai capito No Sì Oh mio Dio Sì Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ragazzi Scusate Ma fa troppo ridere Ce l'abbiamo Non lo capisco io il mondo Vado a vedere Io spero Scusate Ho anche dato un colpo al microfono Un colpo al cazzo Ma posso giocare con un'altra arma? Eh? Gioca io Gioca gioco Oh Gesù Cristo Mi si è aperto un mille finestre Era un po' ads Normalmente non suerenza dire Che abbiamo lago Per lo tanto Non ci preoccupiamo molto Per quello Perché? Mi sembra che si sentite Lago in live Perché? Sì Ora Ora sta laggando Ora si Ora si Sta laggando Sta laggando Bastante Ehi buonanotte Fanta Fanta Aspetta Vai un secondo Tutti su Discord Corcico Allora Ci siete tutti su Discord Italiani Italiani Ok Ok Sve Ti vedo Ok Allora E la prima va a Sve Vediamo la reaction di Sve Poi vediamo se Sacchina c'è Non vedo Sacchina Non vedo Sacchina Non esplosa la palla Non vedo Sacchina Sacchina Non c'è Ma cosa è successo? Non ho capito Non deve esplodere questa palla Zitta Non urlare un secondo Vedo Fanta Dove è Fanta 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 è andato a dormire Ma dove cazzo sei andato Fanta? Eccolo Fanta questo è per te Poi se non sbaglio c'è ancora Duca Vabbè dica Duca Dica Duca E' qui Perfetto Io ci aggiungerei ancora The Game Senta Arriva il primo Guardalo Oh mio Dio Omega reaction Non è Non è indistruttibile Ah ok Grazie per l'informazione Non lo sapevo Ma come è successo? E' la prima volta che mi è successo Ma basta Ma tu l'hai capito C'è rotto cazzo Oh mio Dio Oh mio Dio Sono io che sto giocando ovviamente Non è che Omega reaction Oh Kaleb Oh Kaleb 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 20 un secondo su Discord Porfavor Antes che Che voi partì Porfavor Cosa sta succedendo? Perché sono scesa? Vente su Discord Un secondo Kaleb Kaleb Non so se prima Io ho avvicato il tuo perfil Vorrei Cheектор come Con il Con il codice Il Un secondo Il motore A più Il motore Che 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 Iro, guardate il video, usate mezzo, oh mio dio cos'è quella cosa, allora vi dico solo Fanta commentato scrivendo, oh mio dio cos'è quella cosa, io vorrei sapere cosa dice Sveli e cosa dice anche la nostra amica Sakina. Prima Andrew, lo chiamerò Andrew il nuovo per un giorno solo, ha detto ah te la giochi con l'acro-aerografo, ma questo è buono o cattivo? Ma io non lo so, stavi giocando tu? In che senso, perché stavo giocando io, sì, in che senso che è un'arma, è per dire, io nella mia Switch, nel mio profilo sono a livello 21 adesso, quindi non ho accesso a molte armi, quindi quando gioco con il su mi piace provare quella che ci sono, così io so cosa devo comprare e cosa no. Ah duca, duca ti è piaciuto vero? Duca, come che schifo? Bella no? Dove l'ho messo? Sakina devi guardare il messaggio privato, ti ho mandato un messaggio privato, amputateli in naso, la risposta di Fanta è stata, oh mio dio cos'è quella cosa, amputateli in naso. Cosa è? Ti ho messo il... Gabri, e questa è quella che era sopra di te prima, quando hai detto chi, quella persona che era sopra di te, quando hai detto chi, è questa. Però fa niente, dai. Gia fui a Discord. Super Smash Bros. Young Hero, sì, giocavo a Smash Bros. In 3DS, ma ora è più tempo che non giocavo a Smash Bros. Oh mio dio, non c'è troppo buona niente. Nooo. Spera, Caleb. Questo è stato Andrew. Spera, Caleb. L-I... ahahahhah e ti vuoi avere solo un bii e gli vuoi avere solo un mangerio no, no troppo tardi aspetta ok, tosso Sta succedendo come erai nata Kaleb? e quello non era no 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 Gabri Gabri, sicuro? svegli svegli buonanotte buonanotte svegli un abbraccio riposa ma se adesso ha messo che le hanno chiuso il profilo ha messo un nuovo video dove era la stessa faccia no 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 Gabri ti stai sbagliando Gabri credimi perché l'ho vista anche in live con lo schifo crontollo andanda cosa cazzo hanno visto my eyes po 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 come fai a capire? non so come chiede cosa sta succedendo sta giocando? ah no 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 era per dire che il finale vai vai gioca eh Guz sta giocando sta giocando jazz sabes? ha hecho mejoria un monton eh un monton un monton right now it's me playing eh like for the last two matches we play we play rank battles when we play in private battle eh no do you play a lot of rank battles yes because we have the non c'è tanta gente perciò che cazzo gioca in private dai right now there's not so many people around here so this is why we're playing like this e tu e tu e tu e tu non riusciamo a giocare eh con lui in un equipo con chi? con Andrew fino adesso in tutti in tutti opposto be peu be peu be peu po 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 dove vai dove vai? ok un metro dopo un metro dopo un metro dopo un metro dopo jessica jessica can not fly fly wow Questa canzone è troppo bella comunque C'è la fine additiva Oh, mi piacerebbe molto che tenessi versioni Sì, una versione Art Tecno No? Grandiosa, già, assi ti chiedo Oh no Oh no Nooo Qui dovevi andare sotto Sotto? Sì Sotto la tintura Vale Siamo fuori dal nome? No, Young Hero Il nome di Igodi è 15 anni 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 È stato un clan di Xbox One No, Xbox In Xbox In Xbox One In Xbox 360 In Xbox One In Xbox One In Xbox One In Switch In Xbox One Sì Yeah Young Hero Yeah If you wanna put the name No problem Because We play every day So you can Come here and play with us Every day No problem Welcome Oh, non avevo inchiostro sai Ma stanno tutti già qua e il mio equipo è tutto là Okay Wow What's up? Dexter Ciuforos E sale Fu sei uno dei Quei abbonati No No E' lì Io ho visto nascere l'igodi, ho visto nascere l'igodi, sono stato accanto a loro fino a che mi sono unito in Call of Duty tra il 3 e il 4 che mi sono unito a loro, perciò calcola dopo 3 anni, 2 anni più o meno, perché io prima facevo parte di un altro clan, li conoscevo ma non ero con loro, schiacci. Non ero con loro, se te l'hanno chiesto divi che no. No no. Andri, un secondo, perché tanto siamo tutti quelli che andiamo a giocare in privata, più o meno siamo noi. Saliamo di livello almeno. Quelli che vedi qui saremo quelli che andiamo a giocare in privata, sai? Solo che qui pilliamo a me i soldi, non ti piacciono le solde? Dexter, ciuffo rosso e il naso all'insù Dexter, ciuffo rosso e il naso all'insù Dexter, Dexter, nel laboratorio Dexter, Dexter. Ok. Eschere! Andrew, ti dico una cosa, io grido reaction, non so se l'hai visto, come Mr. Flame, come un pazzo. ho portato la parola del bufu, ho portato la parola della reaction di Mr. Flame, ho portato un po' di cose dall'Italia con me qui in Spagna, perché io non vivo in Italia, io sono in Spagna. E' Jessica, mia moglie, questa persona che sta parlando, ogni tanto parla che sembra... E' così, e lei invece è tedesca. Siamo un italiano e un tedesco in Spagna, sembra una barzelletta. Cioè, un italiano e una tedesca in Spagna, sembra una barzelletta, sai? Beh, non ci stai? Ah, sì. Bella. Si vede che abbiamo fatto la live di mezzanotte, che non c'è affluenza. Tanta. Brava, brava, continua, continua. Duca, Duca, Duca! Ah, io e Duca li metto la mappa, ciao. Tu, Duca, è bella mia mappa. Dove è la sacchina? Ups, ah, buono. Dominique! Splat mutuo. Sì, ma non da noi in Barcellona. Cioè, ti spiego. A quanto pare ci doveva essere anche a Barcellona in fuso orario, solo che è stato cambiato per volere del posto, perciò l'hanno dato solamente dalle Canarie, no? Giusto? Secondo ho capito, in teoria formerebbe parte. L'ho già detto. Sì, però per cose, non so se europee, non so perché, non è realmente. Comunque sì, in alcune parti della Spagna c'è un'ora di differenza. Un'ora di Spagna significa solo una isla che si trova vicino all'Africa. Ups, non è stato buono vicinarsi così, però potrebbe mancare un vincere. Sì, a mezzanotte abbiamo mangiato un'ora fa, perché ripeto, gli orari sono tutti sfasati. Sì, nel senso, anche se l'ora nell'orologio non cambia. Lo spagnolo si è adattato agli orari che voleva. Per dire, nell'estate soprattutto. Buono, senti che buono. Sì, l'estate è un'ora e mezza addirittura, differenza sembra. Vero? Capito, ne vale troppo la pena. Quindi è mezzanotte da voi. È certo, esatto. Come da voi? Ianghiro, I speak three language and Jess speak six language. Sì? Anche è il tedesco della tua parte, per me è un linguaggio. In realtà è un linguaggio, però non ufficialmente. Eh, non lo so. Però grazie a lui posso capire altre tre idiomi. Che fighi! Che mona, sai? Mona in spagnolo è come si spiegherebbe? Che carina. Che carina. Che dolce. Che dettagli. Non sappiamo bene a volte delle traduzioni spagnola. Sì, ma perché non mi sembra la stessa cosa, però va bene. Perché sembra ancora una cosa... Perché carina per mettere troppo... Più presa per il culo per dire una cosa, mi sembra ancora. Carina per la sua carina. Che carina per la sua carina. E addirittura esagerata, capito? Mona è ancora di più, perché il mono, minchia, la scimmia. Che scimmietta. In italiano, se dici che scimmietta, io, minchia, ti infilo tre dita in gola e ti faccio l'asportazione dell'esofago. No, 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 no. No, mamma mia. Ma se vivi nella USA e parlate già due lingui, è più che l'avviso del vostro paese, no? Perché che lingui si usi a imparare, a parte dell'inglese? Ma come si chiama poi lui nella switch? Chi? Questo che sta parlando? Young Hero, what's your name in the switch? Sorry. No, perché non me lo ricordo. We have just forgotten. Ah, perché è nuovo, più che altro. Ah, so you speak Spanish, so you can understand us. Cool. Then you can use the streams to improve it, because we're speaking a lot at some times of the day. All Spanish. Ah, he's Young Hero, okay. But are we playing with him right now? Hai visto cosa ha fatto a Goose? Goose, te l'ha ammattato e tu ha perdito la super. Non l'hai visto? Che bastardo che sono stato. Gli stava andando contro una palla, Goose, e io ho visto il tipo della palla, ho iniziato a correre e li ho ammazzato, mentre lui stava esplodendo. Io voglio sapere come stava. Hai Smarth, hai. Hallo. Welcome. Ah, tu sei un German, hallo. In Tedesco. Alles klar, wie geht's? Ma, Smarth suena come... Si parla è l'altro, come un uomo. Ciao. Sei sei il nostro canale. No, no, non ho conseguito hacer dos mil. Cool. Also, wir sprechen ein paar Sprachen hier. Sprechen manchmal, wenn Deutsche hat, hier sind Deutsch, Spanisch, Italienisch, Englisch. Also, wenn du, als man hier bist, und wir sprechen gerade andere Sprache, sag einfach Hai. Ah, vale. Und wenn du mit uns spielen möchtest, kannst du uns abonnieren, der code ist in der Beschreibung. Spaghetti. Spaghetti. Di, 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 di me la cedr. Leo Benedetto. Subito proprio. Er sagt, und gib uns auch un like. ricorda tutti l'inglese anche si un Discord server abbiamo anche un Discord server dove puoi inserire lo usiamo un po' e credo è molto bene organizzato con molti cose sì e chi non è inscrivito il Discord è bufu 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 ok coole channel ho mai visto o non ho visto o ho visto come questo cosa 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 come Neolunar, come si chiama? Blaster Lunar? No lo so ma quiero ir a matar, veloz veloz Rápido! Rápido a matar Si es como vas más rápido adelante creo Donde esta? Vente! Daj, es barf Ahora, aquí? Ya, porque soy alemán y él es italiano y vivimos en España Dime las tres mías, porque todavía soy italiano Pero aquí hay muchos de los italianos No, espera, ¿sabes? Ahora que en la margen de la vida hay escrito Bufu ¡Cierto! Bufu! Aunque no te sabros si continúa tanto No tanto 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 ¡Bufu people! ¡Bufu people! ¡Bufu people! ¡Bufu people! ¡Bufu people! ¡Bufu people! ¡Bufu Hagia! Siamo arrivati in finale a una clan world molto grossa e non abbiamo mai giocato insieme ancora finchia, hai capito? Hai capito? Non c'è una domanda o una domanda? Ma già vi adoro, lo sto vedendo ma già vi adoro Anche non hai attesa qui non sembra intelligente Non so come dirlo È piemontese già, deve essere intelligente Come le puoi dire a una persona che conoscesci hace poco Ah me caes bene Come si dice? Sei simpatico Che simpatico? Che poco espressivo Cosa dire? Le migliori di persone possono essere simpatico Ma sei molto simpatico Ma come hai poche ragazze, io ho visto che non ho bisogno di unire Mi sono davvero assicurata quando hai parlato in tedesca Ho visto che hai scritto in tedesca in tedesca Perciò, faccio sempre così Vabbè, ma questo buffo? Vuoi giocare o no? Spiace o cosa? Parlare, parlare I tedeschi parlano tanto Osservano prima di giocare Eh, ma qui devi entrare a giocare e almeno ti rendi conto quanto vali Ma non so, sono le 12 Magari Non so, secondo me l'età sembra Vieni bufu Ah, io le mie 10 kill Li tiro fuori adesso E' un ritmo tropical No, seba C'è un ritardo di 2 secondi, non è fuori tempo l'audio E' una cosa logica normale e si chiama lag di trasmissione Ed è minimo Perché normalmente uno youtuber mantiene i 20-25 secondi di lag rispetto al diretto Perché se non tutti quanti lo vanno a ammazzare Hai capito? Per cui io lascio 2 secondi perché se mi ammazzano non me ne frega Nucaz Si, entra in qualche live di altre persone Scrivi e guarda dopo quanti secondi ti rispondono Noi adesso abbiamo, ti dico, abbiamo qualcosa di lag che è espresso in 2-3 secondi 2 secondi e 87 per la precisione E' il minimo che posso mettere Perché ho 300 mega di fibra ottica perché se no non potrei mettere 2 secondi di lag Sarei alto Ah, anche Arex sta usando l'aereografo dorato, hai capito? Chi? Quello che... Ah, sì sì Ah, quindi ti piace anche a te? Bueno, so che stai giocando, non devi rispondere ovviamente Gioca Smurf, spielstu o non? Hast tu una Switch? Das maximale Level ins Plattone è 99% Beziehungsweise 100% Aber man kann es dann wieder neu starten Und dann bekommt man so'n Sternchen davor Wir spielen ab und zu mit jemandem Mit Sternchen Vediamo se giocano Vediamo se giocano Mi sa che faccio una pubblicazione nella piazza Comunque adesso Tisana, tisana, tisana Sei meglio della marivana Tisana, tisana, tisana Il caldo di una brasiliana Hai visto qua? I nostri amici da Sud America cantano Tisana, tisana Hai capito? Cioè, dai Non ce n'è Non ce n'è proprio Viva Ah, tu hai fuori Splatoon a comprare Wow Se tu dovresti stai unbedingt a comprare Dice che ha la Switch Però ancora non ha Splatoon Però come sta pensando Da comprarselo sta guardando Gabri, Gabri, Gabri Gabri, Gabri Va bene uguale Non scrivere dati personali Consiglio di un amico Si Non è che guadagni Meno persone sanno E meglio stai Vai Quindi, uno, due, tre Sì Ma a chi è? Ma a Splatoon 2 è più comodo giocare con il controller o con il pro controller? Io gioco con il controller Ma ce l'hai il pro controller? No Forse si è rotto ha detto Ah, era lui Non era Fanta Era Sebastian Boh, non so Io penso come adulta penso che il pro controller è una cosa meglio Solo che penso che se hai le mani troppo troppo piccole potrebbe essere troppo scomodo Per i più piccoli penso, no? Cosa pensi tu, lo stesso? No, io penso che è solo una questione di abitudini e di quante console hai giocato prima di Vale Ah, Sakina, te ne vai a dormire Oh, un abbraccio, Sakhi, grazie per essere passata a trovarci Sì Scusate Il pro controller che ha preso vita Spero che riposi e che domani sia un inizio di settimana buono, almeno quello, dai Sì E ci vediamo presto, aspettiamo Sì, sì Qua siamo Tanto giocare giochiamo, quella è l'unica certezza che posso dare alla gente E gioco tante Sì 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 Ah, stai giocando? No, voglio fare una pubblicazione nella... Oh Pensavo entrasse Prova a entrare Sì, ma faccio una... no? Prova a entrare Ci credo, Sakhi Bella Bella di padella Cioè, se non fai quel rumore sul tavolo forse disturbi meno, sai? Sì What are you? Tostarella 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 Non hai messo l'acqua Eh? No, non mi saliva, non mi faccio felice Fai velice una persona Grande Oh No no Mattias Oh 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 Io provo a fare così Io provo a fare così Io provo a fare così Vai 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 Oh Boom 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 E vabbè Ostra Eh veloce veloce Vi sa dove quasi più nessuno usa i secchiostri Pochi Poca poca gente Però quelli che li usano ho imparato a usarli veramente bene Mi fa venire il voglio di usarlo Anche a me quando mi esce In Salmon Run sai Ostra Pappapapapapapam Pappapapapapam ce la farò ce la farò o non ce la farò oh mio dio sembra una donna la mia tipa non vede l'ora mangia il gelato e poi va a casa paraparaparapa vai che vado per il 57esimo livello pu 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 ma sì certo chicos io vado per la metà del vento c'è anche jess con un nuovo arma che trovo per prima volta guau guau ag la cl i giapponesi e gianze sono molto bravi in expertise among o chi sono molti per aspettarlo perchè penso che magari questa avrebbero non c'è la SWIFT lì Uff, scherloz! Inizia! Laura, tío! Con che tipo sei, Jess? Viola Oh Jess è in un altro team Jess è nell'altro equipo Eccola Sì Eccola Jess Un blaster, un calibro dei primi che posso rendere No, non lo creo Eh Duca, pian piano cresci Se giochiamo sempre private il livello non sale mai, lo sai? Sì Duca A me, adesso come adesso, io sono un gamer e con il livello basso non mi diverto più Perciò meno private e più occupazione di stanza Nintendo Via È come un blaster, vale? Perché tiene boli molto grandi di color Però è abbastanza rapida Se sono meno potenti Oh Duca È grande Duca È grande Duca Vamonos Chi è? Tu? Se può essere tu? È anche Luna, via! Lina, Laina No, è Duca No, è Duca di nuovo, vuoi vedere? Lo sapevo Grande Duca Minchia 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 Mi cerca proprio A vero Che errore No, Smurf Minchia No, Smurf Che errore No Smurf Non lo credo No Olè, olè A me interessa, a me interessa pintar No, te stavo percebendo io A me interessa pintar, a me interessa pintar No, perché hai escapato di tuo perrito, hai sido tu che ha lanciato la bomba Si, chiaro Escapato, eh? Eh, ma mira, mira, mira tutto lo che hai fatto Mira, lo che hai fatto Mira Daì Vrr L'amorillo Eh? Tenia che serlo Oh, oh, oh E io arrivo dallo 2000 No, no Ok, Marvin, alles klar Mi sembra Marvin Perfetto, Marvin Escapato Escapato Os Nombes Dello Spice Sì Bella Bella partita Guarda questa arma Veramente bella Calibro Cerca proprio un altro un giorno Calibro No, che tu adesso sei del Pennerello Minchia Io siamo in gioco È come un pazzo Vado Vado Dillo come ti chiami Chi? Doc 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 Allora, allora, sai chi è? Usa Fire Buonanotte, Duca, buonanotte, grazie per giocare Ci hai fatto divertire Ci vediamo presto per salire del livello Lasciate il like, 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 like Guys, like, 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 like Das ist mein zweiter account Like Achso Tre volte, Gabri, mi pare Oh, Duca, Duca, per favore, guarda la scena porno della reaction dello Spratfest Vediamo se la trovi, non me l'hai cercata prima Oh, Christian, tranquillo, Christian Wow Metti il minuto Beccati questa pioggia di like Metti il minuto in cui succede Nei commenti Così almeno la gente vede subito il minuto Oh, Macello Se vuole il stesso tipo Non lo so Viola? Sì Perfetto Like Tattico e AD9 AD9 E AD9 Perché AD9 così? Di solito fanno 6, no? Che è AD9 Di solito non fanno AD6 Che cosa stai parlando? Boh Non lo so Non so, ma mi sono messa Ma per puro caso il cellulare in una maniera pratichissima che posso giocare e quasi leggere allo stesso tempo Wow L'ho visto Merandiosa Ti meriteresti il Nobel per la pace Avemo un partito tutto dello suo amico sudamericano, no? Latino, sei vero? No, Volatil Sì Chissà dove stanno Boh 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 dabei Oh ho finito la tinta ho finito la tinta ho finito la tinta aiuto aiuto hola otra vez aqui te espero te espero vente 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 que jugamos ahi ah habla con mi perro va oh ves el perro lo hace bajar wow wow soy practicamente indestructible con esta bolita me encanta es muy chula creo que he hecho el nombre de kills mas grande de mi historia te lo juro eh ma estas en un equipo donde Toast primera muerte del juego estamos todos aqui eh mira Toast e USA algo mira tu bolita si si era solo yo 6,6,8 era mi bolita porque estaba ahí que tiene 21 suscriptores en su otro account wow y lo haces no solo un segundo y lo haces y lo haces boom 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 bello 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 e che hai fatto? hai fatto i gattini? hai la gatta imbarazzata? che guai! sono molto preziosi Andriu, 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 come si chiama? Arexe Arexe non so come si pronuncia in italiano Arexe non si scrive così Arexe è una città Arexe di Milano, vicino di Milano Andriu, comunque Andriu, l'hai vista mia moglie giocare a livello 20 come come spacca quando sono la mia internet mi sento più capace cosa dice? questo lo potevi anche capire tutto non quindi la mia video è una video però magari all'inizio i arrivi ma in a che senso? con cui faccizi di queste video? o come spiegatevi? Il gioco di gioco. Toast, è ancora qui? No. Il giovane non arriva. Eh? Il giovane non arriva. No. Il gioco di gioco. Il gioco. Ho visto. Ok. Tyler. Tyler, sì. L'abbiamo visto prima. E abbiamo fatto un video di una reazione. Nella mattina, no? Nella mattina. Ehi, Tyler, vieni al stream. Ten bier. Ten bier per Tyler. Sì, ha 10 views? Ah, ho visto il video. Shhh. Adesso inizierà a tremare, vuoi vedere? Shhh. Faccio un video con un pallino nero che gira intorno. Voglio vedere quanto faccio? Eh? Vuoi vedere che lo iniziano a fare quando sarà il buffone? E vai? Dai tu. Sono pronta per splatare, ragazzi. Andiamo avanti. Ho fatto più visualizzazione della mia scelta che il tuo video. Non so il culo. Adesso faccio il tuo video io. Della mia scelta che ho fatto. Vediamo che vince. E' broma. Non so che non lo si muove. Non è che... Non è che succedeva. Non è che succedeva. Non è colpa mia che sarò. Così la gente piange per il berlusconi eh. Non dimenticartelo. Lui non è che può farci una cosa se la gente è stupida. Non sa fare. Provaci. Mi ha spiatato lui alla fine. Perché ha fatto anche la palla. Ma perché? Io ero alla criceto di Marco. Oddio mio. Come mi ha ammazzato Arese. A volte sembra che abbiamo il nostro proprio linguaggio fatto, no? Se qualcuno mi sente adesso dire. Sono il criceto di Marco. Diciamo che... Che cosa sta dicendo questa? Che cosa sta dicendo questa? Sta scema. In verità il criceto di Marco è un'arma che si fatte una fatta in onore a Marco. Si. E Marco è sempre Marco. No! No no no. Questa partita non sono tanto così concentrata. Quanti siamo? Possiamo andare a fare... Salmon Run? Mi sa che siamo solo in quattro. Siiii. Per favore. Qualcuno vuole giocare Salmon Run? Chi sta giocando? Scusami. Hai chi tiene ganas di giocare Salmon Run? È l'unico che dico mai che mi entiende ora. Questa partita sta andando molto male eh. Oioi. Boom! No. Che è? Sai perché non mi va bene? Perché la prima ho usato un botto l'arma secondaria che sono le bombe chimiche, che sono le cimiche queste che in realtà vanno bene per bloccare i posti. Però lì eravamo nell'altro posto. Che era più stretto. Qua non servono tanto. Questa mappa. No, 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 no. Kamui. 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 Ah, Arexe. È difficile, Arexe. Tu mi devi dire se sto facendo il ridicolo quando dico il tuo nome o se veramente lo sto dicendo bene. perché quando ho questo dubbio ti piace. Ma secondo me non c'è neanche più ormai sai. Sì, dirò di più. Tu dici? Spero. Potrebbe anche essere perché è vero che prima gli ho detto una cosa e poi non ho scritto. No, no. Na klar, maarte, Marvin. se non ci sono un plato, poi spielsi con noi ma se non è così lancato, può essere che non è così lancato perché la sua amore è sempre lancato e poi puoi uscire un po' 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 Quanto? Mezz'ora In una halva stonda è il stream finito e in media ora avremo il stream E credo che dopo questa potremmo poter essere ammurato Quanti siamo? Tyler qui? Tyler? Non ho detto niente Ho detto che il botto può aggregare ma se ci mette troppo a scaricarsi Spetoon comunque sicuramente si 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 Provo a stare extra non so se ci sente se ci vede sparire magari ritorno allo stream Può essere no? No Ma è successo il danno Cos'è successo? Che sono andato indietro Meglio meglio No C'è Lo faccio andare indietro Ti 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 E' vuota ancora e può entrare Totalmente vuota Totalmente vuota Però non possiamo più uscire Non C'è Ok, cool, Tyler, stavamo chiesto a noi nel stream dove eravamo. Stavamo pensato di fare un Salmon run. Sì, dovremmo spiegare un Salmon run. Dopo questo, questo sarà un giusto giusto ora. Ok, Tyler, è ok per te. Sì. 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 Impressensibile. Wow, che arma è questa? Andiamo avanti. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, vale bando. Ciao. Ciao, Gege. Ciao, Gege. Che cosa vuoi? Vieni a jugar con noi. Vogliamo fare un Salmon run. Siamo tre persone. Se vuoi riunirci, ci facciamo un favore. Oh, Tyler. E' stato splattato. Oh, come me deja questo sin coloro. No, grande Alepando. Non mi sentirai mai, ma grande. Che sa, ti immagini che adesso... Tyler, Tyler. Oh, Tyler è... È un ruolo forte. Wow, 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 wow. Wow. Oh, mio Dio. Tranquillo, bella. Impossibile. Impossibile. Non è possibile. 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 Cosa è successo? Si, tosse, tosse, tosse. Credo che possiamo fare una lega o un Salmon run. perché vogliamo giocare in Salmon run. Siamo tre persone per Salmon run. andiamo a fare una lega o un Salmon. E' stato un Salmon, non è possibile. Andiamo in seguito. cosa hai detto? cosa vuoi dire? Toast? sì, sì, toast se vuoi entra, entra se puoi entra, entra no problem noi stavamo solo dire che non è venuto non è venuto tu sei perfetto continuiamo non salmone per ora sì, salmone dopo dopo tyler tyler no 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 minchia loli loli ma ora tu vienes loli, ostra vieni, vieni vieni eccolo tyler perfetto ti ha detto che us 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 loli 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 angelo loli che tal loli 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 domani loli mi loli è loli costruiremo le loli Siamo italiani, 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 USA, con francese, quindi non preoccupi, siamo insieme. In giocano, io e tu, perdonami, ho che faremo? No, Loli, Loli, bufu, bufu. Ah, bufu, bufu, però grazie per salutar. Grazie, di coraggio, Loli. Che ricordi di noi. Loli, Lola, ogni giorno io ti voglio più. È vero. Ah, bebe acqua, bebe acqua, bebe. Bebe. Well, France is allies with the US. Ah, come do you know this? Sì. Dove è? USA Fire. No, sì? Sì, è freddo. America, non so, non so, non so, di dove? Freddo? Where are you from? Frosts? He cazato you Frost instead of Toast. Oh, cred, questi sono il nostro cervello. Explodiamo con troppo linguaggi. No, non, non è, non è, non è. No, ma tanto io non lo so, cioè, non so la geografia della U.S. Sì, come se io sapessi veramente dove è Minesota, ma io non lo so. Sì, ma io non lo so. No, non lo so se hai l'anno o l'interno, siamo un po' ignorati. Sì, abbiamo troppo problemi in Europa. Che tu non hai un'idea, Toast? Voi parlate di Messicali, non avete capito cosa sono marocchini, no? Io non siamo... Uniti. Buah! Che botta! Loli, lola, casa di aiote che romos! Loli, 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 lola! And there we go with the roller! Roller, 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 roller! Ah, io anche voglio provare il roller! Ostra! 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 Ma tu alzi il dito della destra, del dietro, del ZR, qualche volta e sembra che tieni scherciato. Quello di sparare, diciamo. No, io lo scherciato tante volte. Lo scherci? Lo scherciato molte volte. E con il pennello quando usavi arma sparo, scusa. Bisogna vedere. Ma sai che mi sto rendendo conto che così si gioca molto meglio. Perché io sempre aspettavo, magari lo posso tenere premuto con quelli che sparano sempre. Sì, ma vuoi vedere se vai a diminuire la cadenza dello sparo. Se sparando troppo, lui riducerà l'intensità dello sparo. C'è come fare tata, 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 tata. Boom! Die gleiche in Deutschland, Marvin. Tyler, un'altra, perché voglio spiegare contro USA Fire. Un'altra, un'altra. Sì, con il Gato, qual è il capto? Il Gato HD 60. Il Gato HD 60. Però il S, 60 frame? 60 frame. Ja, ha spiegato molto. E abbiamo il giro il scorso giro. Lo abbiamo il scorso di sviluppo e il scorso di scorso. Wow! Abbiamo rispondito alla domanda di Jan, del Face Reveal, ha fatto un Face Reveal o no? Se lo vienete? E se lo vienete? E se lo vienes? Nooo 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 Especialmente E' especialmente e' especialmente Quindi sono Sono il rottore grazie the crazy gamer hi welcome to your channel then do you have the switch crazy gamer crazy gamer welcome I have adieu I subscribe to you crazy welcome to our community wow I don't know what happened what happened? I don't know, it exploded immediately you have to understand this second weapon is not easy wow 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 it happened everything I don't know, I didn't do anything Tyler, Tyler we go in in Salmolan we do one or two matches in Salmolan in two minutes don't worry oh who is that? oh who is that? oh who is that? mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ho finito l'inchiostro ho finito l'inchiostro fire fire chi è questa? mia moglie lo sapevo lo sapevo oh oh voilà tutti e due tutti e due tutti e due giù down too fast too furious mia moglie voilà no ah Jules di nuovo la stessa scena con Jules si anche tu? io con Tyler li ho spettati insieme di nuovo io con Tyler attraverso wow 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 in questa partita c'era da pagare il biglietto però l'avete vinto voi sai e vanno a vincere e vanno a vincere ohhhh bella wow sì era un gioco davvero buono wow 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 go back 1 2 3 allora quanti siamo? quanti siamo? 1 2 no non l'ho contato ok ok go back go back go back 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 ti piace il juego Mario 64? ehm mira ho giocato la prima vez a Mario 64 che credo che tu non abbia nascito e mi abbia encantato in questa epoca ora mesmo mi gusta sempre perché hai veces che juego a Mario 64 con mi Nintendo 64 si buon game buon game buon game buon game voilà mi stavo già l'ispitando vamos vai ma già vai io penso che si entrano tutti adesso e tu non sei mai arrivato ahahah 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 guarda guarda minchia va andando bene ahahahahahahah mi piacerebbe metà bene grazie a te sono tinta grazie mille grazie a te che schifo non potrei sei pronta per Summer Run? Summer Run questo sarà divertente spero oh ragazzi share with your friend the channel because we want to grow to make tournament to make a big community please help us with your friend I don't know but maybe all together it's possible non me lo creo do you know this is me so morta Oli, 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 chico, chico, help me, guys. I go in the middle, in the middle, guys. In the middle, in the middle. Ok, good work. There are two grill now, one versus me, one grill, one of me. So, to die, these 17 men of fish, oh my god, are you dead, Ale? No, no, I can not die, wow. No, but this makes me mad at my base, so we can speak Japanese and Chinese, like Marvin. Marvin, no, Marvin, 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 si chiama Marvin, ha detto. Ah, ok, Marvin, ok. Lo si chiostro? Marvin, ho pensato, io, perdona. No, come, non so, in italiano c'è quel nome? No. Marvin, oh my god, oh my god, sembra una donna. Oh, no, 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 no. Vale, mi ha spinto. Rose, stai, 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 stai. Guys. Oh ragazzi! Oh no 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 no! Tengo che destruirlo I'm behind the snake I'm behind the snake where you have to splat him Yeah, but splat him yeah Gio Gio salvami, salvami Sono lì eh? Dove? Ti ho preso? No Dove sei? Eh guarda non sparare solo alla cazzo No no Nooo Grande grazie Thank you Tu schiacci l'aiuto quando tu muori Schiacci l'aiuto quando muori Ah faccio così sì Sì perchè serve a vedere dove sei la coppa Nooo Nooo The last one with the sniper I cannot believe I hate Nooo The last one with the sniper I cannot believe I hate Nooo Andiamo 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 Minchia Ricordarci Sono troppo intense Come dio pesciolino piccolo Vai 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 L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta Nooo Già 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 dove sei? Sono qua Tyler Tyler Go 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 17 Mi sono persa per un attimo 17 Noi facciamo se vuoi Ancora l'ultimo salmon run Però basta Ancora uno Questo è intenso Ce l'abbiamo fatta Però non quello Nocci D'accelata udiamo Sì È un bello Pi 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 no perché sono uscito tutti sono usciti crea stanza con codice che dici nel tedesco che sei ancora famiglia in Germania che chi mi rimane in Germania? nessuno, sono tutti spagli che non so se senti? è molto possibile davano al cecchino voglio andarmelo ma sento a metterlo al cecchino e uscire ioorkast Io faccio sempre come per avere una via al redditor di tutto per dove ti puoi smuovere Tutti fanno così, sai? Perché il mondo lo coprono molto bene Solo che i mostri te la coprono, ogni volta che passano Dai bordi vicino a cosa, deve essere sempre fatto Sui muri dove ci sono passaggi che se arrivano al grill puoi scappare da una parte all'altra Però qua, capito, qua se fai bene passi dall'altra parte e se c'è qualche grill li salti Guapa, guapa, guapa Ah no, questa volta ho conseguito un huevo perché mi passa più di una volta di volerlo a por los huevos e non essere la ultima Dove sono? L'altro posto c'erano altre Qua Andiamo andiamo Com'è com'è? Ragazzi, ragazzi, ragazzi con me Dove sei? Nooo! Non me lo creo Non ce la faccio, non ce la credo Non ce l'ha fatta, un secondo, guarda dove era Eh, dici tanto, guarda No, avevo un uovo Oh, sniper, oh per Dio Io ho fatto un po' di giro pazzo E? E' un mantenso un grande E' un poli Ma, mia sono nulla con le snipe ho fatto il fido? sei morto? no però c'è uno che mi segue se mi dispare di dietro lo bloccavamo e bloccarlo qui è molto buono mamma mia che salmurran non c'è il gran salmonoide no? wow grandi e il ultimo il sniper mamma mia I hate sniper come facciano i giapponesi? je 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 sono dietro perchè chiami? mi hai chiamato per errore in chiara prima non c'è nessuno si si voilà vai 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 voilà un giusto a 3 oh mio dio minchia qua non c'è nessuno che diceva che c'ero salvatemi 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 wow 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 sapete che mi sono dimenticata delle in tutte le partite delle armi speciali non dirlo per favore e basta, concludiamo qua, sai e scliessi ora il stream ragazzi, siamo a cercare il stream ora sì, sì, oggi abbiamo fatto un grande stream e adesso abbiamo fatto un buon stream quindi ci vediamo domani e buon giorno, buon giorno, buon giorno buon giorno, buon giorno, buon giorno buon giorno, buon giorno buon giorno e ricordate ricordate ex team always win stay fresh eh? cosa vuole il gatto? il gatto mi ha dato una io non vado mai al gatto ma ancora, forse non sei a livello gatto già cosa mi dice il gatto? fatti consigliare quello che ti dice adesso quello che ti dice adesso ti dirà gestisci slot posso cambiarti l'abilità vediamo questo cappello è bello quello è vero questa è bello questa è bello bye Tyler bye toast bye bye buona nacht grazie grazie davvero vedo la ultima cosa in Splatoon e stop ritirare ordine sì sì ragazzi ehm potresti tentare di organizzare te stesso qui che scrive post festival? che scrive post festival? che scrive post festival? nooo scriviamo ma si rimanerà fino al festival? boh boh lo vai a controllare domani faccio lo stesso di sempre? faccio lo stesso di sempre? è un disegno nuovo allora ta 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 e questo non c'entra nulla cazzo quindi cosa fa? vuoi scambiare? no io voglio ritirare grazie grazie Tost per ricordare che non c'è qui ti ha detto che posso aggiungi perché hanno giocato insieme sì esattamente quindi ragazzi buona notte buona notte alle persone qui vediamo domani sì ciao 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 ciao